Allora, Angelo, fidati, è veramente semplice di sosteguire la ricetta. E poi scusami, con fan nento sbaglia nenti, che non fa non sbaglia. Sì, ma io non è che sono brava come te a cucinare o come Guido, che ora non può perché sta provando la parte. Piuttosto, quale vino ci abbiniamo? Guarda, abbiamo appena fatto il rifornimento alla nostra emoteca di fiducia di vini dell'Alto Adige che non vedo l'ora di aprirli. Secondo te è meglio bianco o rosso? Allora, potrebbero andare volendo bene entrambi. Dipenderà dal gusto cosa preferi. Guido che dice? Non lo so, glielo chiedo? Lo disturbo? Guido, abbiamo un quesito per te. Bianco o rosso? Questo è il dilemma? Ciao Agatha! Cosa state cucinando? Cavatelli al cartoccio. Fantastico! Beh, io direi bianco. Un Gebrustraminer. Un vino molto elegante. Bravo, ottima scelta! Buoni cavatelli! Ci sta benissimo anche questo abbinamento con i Gebrustraminer dall'Alto Adige. Dalle Alpi alla Magna Grecia! Agatha, ti meriti un premio, guarda. Esprimi un desiderio? Allora, i cavatelli ce li ho già. Il vino, invece... E vabbè, Agatha, mi sa che abbiamo capito cosa regalarti per Natale. Una selezione di vini dall'Alto Adige. Mi hai letto nel pensiero!